oggi volevo parlarvi di una cosa abbastanza importante perché molti secondo me non ci pensano è quello di essere donatore avis cioè proprio donare il sangue e ti dura proprio mezz'ora di tempo ora domenica mattina o mercoledì mattina e fai del bene nel senso vai lì mezz'ora doni il sangue e poi aiutare qualcuno perché comunque quando fai un trapiano di qualsiasi cosa del sangue serve e non costa nulla è un gesto secondo me che è veramente buono ti tieni controllato anche te basta poco vai nella tua sede dell'avis dove abiti ti chiedi che vuoi diventare donatore fai controllo dei primi controlli del sangue dell'elettrocardiogramma dopo se sei idoneo in tutti e due puoi cominciare a donare puoi fare anche la plasma che sono il tipo troppi bianchi troppi rossi che sono utili anche quelli quindi quello che volevo cercare di dire che chi è interessato dice ci va va di va va di vada che comunque è un buon gesto che è molto ballo a parere mia quindi consiglio vi consiglio di iniziare a fare anche questo tipo di percorso e volevo dirvi soltanto questo e ci vediamo al prossimo video ballo